Per rivivere in modo più partecipato la passione del Redentore, la tradizione cristiana ha dato vita a molteplici manifestazioni di pietà popolare, fra le quali le note processioni del Venerdì Santo con i suggestivi riti che si ripetono ogni anno. Ma c'è un più esercizio, quello della Via Crucis, che ci offre durante tutto l'anno la possibilità di imprimere sempre più profondamente nel nostro animo il mistero della croce, di andare con Cristo su questa via e così conformarci interiormente a Lui. Potremmo dire, e queste sono le parole di Papa Benedetto, che la Via Crucis ci educa per usare un'espressione di San Leone Magno a guardare con gli occhi del cuore Gesù crocifisso, in modo da riconoscere nella sua carne la nostra propria carne. E sta proprio qui la vera saggezza del cristiano, che vogliamo imparare, seguendo la Via Crucis, proprio il Venerdì Santo, al Colosseo. Dal Colosseo dunque la Via Crucis, presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI, le meditazioni che ascolteremo nelle quattordici stazioni, come già molti di noi sapranno, sono state scritte da Monsignor Giafranco Ravasi, biblista, esegeta, prefetto della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana di Milano. La prima e l'ultima stazione saranno importanti, perché sarà il Santo Padre a portare la croce e al termine della Via Crucis naturalmente le parole del Santo Padre, che in qualche modo sono anch'esse quelle di stasera, urbi e torbi, perché diffuse davvero da tantissime televisioni nel mondo. Monsignor Ravasi ha affermato che ha voluto adottare un taglio narrativo meditativo per le sue meditazioni, ha voluto per certi versi riproporre ancora il testo nelle sue sfumature, quando il testo immediatamente lo si conosce, ma forse non lo si conosce nelle sue irridecenze. E' quindi una dimensione meditativa contemplativa che permetta di vedere come i passi sanguinanti di Cristo ancora oggi, in un certo senso, strigano, lasciano delle scie sulle strade del nostro mondo attuale. I percorsi di Cristo, infatti, sono in realtà i percorsi del Figlio dell'Uomo, quindi questo termine ha delle risonanze ulteriori, divine. Cristo, stasera lo scopriremo ancora una volta, è veramente nostro fratello in tutte le vie dell'umanità, nella via crucis dell'umanità, di tutte le sue sofferenze, e quindi ha voluto evocare, Monsignor Ravasi, molte delle sofferenze dell'uomo contemporaneo. Monsignor Ravasi, Monsignor Ravasi, Monsignor Ravasi, Monsignor Ravasi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, esce l'ombra notturna su Roma, così come in quella sera sulle case, sugli orti di Gerusalemme. Anche noi, ora ci accosteremo agli olivi del Cezemani e inizieremo a seguire i passi di Gesù di Nazareth nelle ultime ore della sua vita terrena. Sarà un viaggio nel dolore, nella solitudine, nella crudeltà, nel male e nella morte, ma sarà anche un percorso nella fede, nella speranza e nell'amore, perché il sepolcro dell'ultima tappa del nostro cammino non rimarrà sicilato per sempre. Passata la tenebra, all'alba di Pasqua si alzerà la luce della gioia, al silenzio subentrerà la parola di vita, alla morte succederà la gloria della risurrezione. Preghiamo ora, intrecciando le nostre parole a quelle di un'antica voce dell'Oriente cristiano. Signore Gesù, concedici le lacrime che ora non abbiamo per lavare i nostri peccati. Donaci il coraggio di supplicare la Tua misericordia. Nel giorno del Tuo ultimo giudizio strappa le pagine che elengano i nostri peccati e fa che più non siano. Signore Gesù, Tu ripiti anche a noi questa sera le parole che un giorno hai detto a Pietro, mettiti al mio seguito, obbedendo al Tuo invito vogliamo seguirti passo per passo nel cammino della Tua passione per imparare noi pure a pensare secondo Dio e non secondo gli uomini. Amen. Prima stazione Gesù, nell'orto degli olivi Ricordiamo che le voci sono quelle dei lettori, sono quelle degli attori Alessio Boni, Orazio Coclite e dell'attrice Chiara Muti. Gesù, nell'orto degli olivi Giusu, nel'orto degli olivi Gesù, nel'orto degli olivi Gesù, nell'orto degli olivi Dal Vangelo secondo Luca Gesù se ne andò come al solito al Monte degli Olivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro, pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiato si pregava. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro, Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Quando scende su Gerusalemme il velo dell'oscurità, gli Olivi del Gezzemani ancora oggi sembrano ricondurci con lo stormire delle loro foglie a quella notte di sofferenza e di preghiera vissuta da Gesù, egli si staglia, solitario, al centro della scena, inginocchiato sulle zolle di quell'orto. Come ogni persona, quando è in faccia alla morte, anche Cristo è attanagliato dall'angoscia. Anzi, la parola originaria che l'Evangelista Luca usa è agonia, cioè lotta. La preghiera di Gesù è allora drammatica, è tesa come in un combattimento, e il sudore striato di sangue che cola sul suo volto è segno di un tormento aspro e duro. Il grido è lanciato verso l'alto, verso quel Padre che sembra misterioso e muto. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, il calice del dolore e della morte. Anche uno dei grandi padri di Israele, Giacobbe, in una notte cupa, alle sponde di un affluente del Giordano, aveva incontrato Dio come una persona misteriosa che aveva lottato con Lui fino allo spuntare dell'aurora. pregare nel tempo della prova è un'esperienza che sconvolge il corpo e l'anima. E anche Gesù, nelle tenebre di quella sera, offre preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che può liberarlo dalla morte. Nel Cristo del Getsemani, in lotta con l'angoscia, ritroviamo noi stessi quando attraversiamo la notte del dolore lacerante, della solitudine degli amici, del silenzio di Dio. E' per questo che Gesù, come è stato detto, sarà in agonia sino alla fine del mondo. Non bisogna dormire fino a quel momento, perché Egli cerca compagnia e conforto, come ogni sofferente della Terra. In Lui noi scopriamo anche il nostro volto quando è rigato dalle lacrime ed è segnato dalla desolazione. Ma la lotta di Gesù non approda alla tentazione della resa disperata, bensì alla professione di fiducia nel Padre e nel suo misterioso disegno. Sono le parole del Padre nostro che Egli ripropone in quell'ora amara. Pregate per non entrare in tentazione. Non sia fatta la mia, ma la Tua volontà. Ed ecco allora apparire l'angelo della consolazione, del sostegno e del conforto che aiuta Gesù e noi a continuare sino alla fine il nostro cammino. Padre nostro Padre nostro e il nostro cammino. Sì, e il nostro cammino. debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Seconda stazione. Gesù, tradito da Giuda, è arrestato. Nella seconda stazione la croce è portata dal cardinale Camillo Ruini, vicario del Papa per la Diocese di Roma. Gesù, tradito da Giuda, è arrestato. Gesù, tradito da Giuda, è arrestato. Gesù, tradito da Giuda, è arrestato. Adoriamo a te, Cristo, e benediciamo a te. Dal Vangelo, secondo Luca. Mentre Gesù ancora parlava, ecco una turba di gente. Li precedeva colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, e si accostò a lui per baciarlo. Gesù gli disse, Giuda, con un bacio, tradisci il figlio dell'uomo. Allora, quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero, Signore, dobbiamo colpire con la spada. E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne, dicendo, Lasciate, basta così. Poi Gesù disse a coloro che gli erano venuti contro, Sommi sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e anziani, Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante. Ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete steso le mani contro di me. Ma questa è la vostra ora. È l'impero delle tenebre. Tra gli ulivi degli ezzemani, Immersi nella tenebra, S'avanza ora una piccola folla. A guidarla è Giuda, Uno dei dodici, Un discepolo di Gesù. Nel racconto di Luca, Egli non pronuncia neppure una parola E solo una presenza gelida. Sembra quasi che non riesca del tutto Ad accostarsi al viso di Gesù per baciarlo. Fermato dall'unica voce che risuona, Quella di Cristo. Giuda, Con un bacio, Tradisci il figlio dell'uomo. Sono parole dolenti, Ma ferme, Che svelano il groviglio maligno Che si annida nel cuore agitato E indurito del discepolo. Forse è illuso e deluso e tra poco disperato. Quel tradimento e quel bacio sono diventati nei secoli il simbolo di tutte le infedeltà, Di tutte le apostasie, Di tutti gli inganni. Cristo dunque incontra un'altra prova che genera abbandono e isolamento. Non è la solitudine a lui cara quando si ritirava sui monti a pregare. Non è la solitudine interiore sorgente di pace e di quiete perché con essa ci si affaccia sul mistero dell'anima e di Dio. E invece l'esperienza aspra di tante persone che anche in quest'ora che ci vede riuniti, E quindi, come in altri momenti del giorno, sono sole in una stanza, davanti a una parete, a una parete spoglia, a un telefono muto, Dimenticati da tutti perché vecchi, malati, stranieri o estranei. Gesù beve con loro. Anche questo calice che contiene il veleno dell'abbandono, della solitudine, dell'ostilità. La scena del Gezzemani si è quindi animata. Al precedente quadro solenne, intimo e silenzioso della preghiera, Si oppone ora sotto gli ulivi il frastuono, il tumulto e persino la violenza. Gesù si erge però sempre al centro come un punto fermo. Egli è consapevole che il male avvolge la storia umana col suo sudario di prepotenza, di aggressione e di brutalità. Questa è la vostra ora. È l'impero delle tenebre. Cristo non vuole che i discepoli, pronti a mettere mano alla spada, reagiscano al male col male, alla violenza con altra violenza. Egli è certo che il potere delle tenebre, apparentemente invincibile e mai sazio di trionfi, è destinato a essere piegato. Alla notte, infatti, succederà l'alba, all'oscurità, la luce, al tradimento, il pentimento, anche per Giuda. È per questo che, nonostante tutto, bisogna continuare a sperare e ad amare, come lo stesso Gesù aveva insegnato sul Monte delle Beatitudini, per avere un mondo nuovo e diverso. È necessario amare i nostri nemici e pregare per quelli che ci perseguitano. Pater Noster, qui es in Cielis, sanctificetur nomem Tuum, adveniat Regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra, panem nostrum quotidianum da nobis sodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malva. Sui anima intremente, con tristata nel dolente, per tranzidit laudius. Terza stazione. Gesù è condannato dal Sinedrio. Gesù è condannato dal Sinedrio. Ed è una giovane della diocesi di Brazzaville, nel Congo Brazzaville, Africa, che porta ora la croce. Gesù è condannato dal Sinedrio. Gesù è condannato dal Sinedrio. Dal Vangelo secondo Luca Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i sommi sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al Sinedrio e gli dissero, «Se tu sei il Cristo, diccelo». Gesù rispose, «Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma da questo momento starà il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio». Allora tutti esclamarono, «Tu dunque sei il figlio di Dio». Ed egli disse loro, «Lo dite voi stessi, io lo sono». Risposero, «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca». Il sole del venerdì santo si sta affacciando dietro il monte degli Olivi dopo aver rischiarato le valli del deserto di Giuda. I settant'un membri del Sinedrio, la massima istituzione ebraica, sono riuniti a semicerchio attorno a Gesù. Si sta per aprire l'udienza che comprende la consueta procedura delle assisi giudiziarie, il controllo dell'identità, i capi di imputazione, le testimonianze. Il giudizio è di natura religiosa secondo le competenze di quel tribunale, come appare anche nelle due domande capitali. «Sei tu il Cristo? Sei tu il figlio di Dio?» La risposta di Gesù parte da una premessa quasi scoraggiata. «Anche se lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Egli sa dunque che in agguato c'è l'incomprensione, il sospetto, l'equivoco. Egli sente attorno a sé una fredda cortina di diffidenza e di ostilità, ancor più opprimente, perché essa è eretta contro di Lui, dalla sua stessa comunità religiosa e nazionale. Già il salmista aveva provato questa delusione. «Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, da Lui mi sarei nascosto. Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente. ci legava a una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa». Eppure, nonostante quell'incomprensione, Gesù non esita a proclamare il mistero che è in Lui e che da quel momento sta per essere svelato come in un'epifania. Ricorrendo al linguaggio delle scritture sacre, egli si presenta come il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio. È la gloria messianica attesa da Israele che ora si manifesta in questo condannato. Anzi, è il figlio di Dio che paradossalmente si presenta rivestito ora delle spoglie di un imputato. La risposta di Gesù «Io lo sono» a prima vista simile alla confessione di un condannato diventa in realtà una professione solenne di divinità. Per la Bibbia, infatti, «Io sono» è il nome e l'appellativo di Dio stesso. L'imputazione che produrrà una sentenza di morte diventa così una rivelazione e diviene anche la nostra professione di fede nel Cristo, figlio di Dio. Quell'imputato, umiliato dalla corte impettita, dall'aula sontuosa, da un giudizio ormai siglato, ricorda a tutti il dovere della testimonianza alla verità. Una testimonianza da far risuonare anche quando forte è la tentazione di celarsi, di rassegnarsi, di lasciarsi condurre alla deriva dall'opinione dominante. Come dichiarava una giovane donna ebrea destinata ad essere uccisa in un lager, a ogni nuovo orrore o crimine dobbiamo opporre un nuovo frammento di verità e di bontà che abbiamo conquistato in noi stessi. Possiamo soffrire, ma non dobbiamo soccombere. Pater nostre, qui es in cielis, sanctificetur nomem tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis sodie, ed dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera la nostra mala. Quarta stazione Gesù è rinnegato da Pietro. Per la quarta e la quinta stazione di questa via crucis, la croce sarà portata da una famiglia italiana della diocesi di Roma. Gesù è renegato per Pedro. Pietro sapiera Gesù sa. via per sant' croce tu avre le visti mundo. Dal Vangelo secondo Luca dopo averlo preso condussero via Gesù e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma una serva fissandolo disse anche questi era con lui ma egli negò dicendo donna non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse anche tu sei di loro ma Pietro rispose no non lo sono passata circa un'ora un altro insisteva in verità anche questo era con lui e anche lui un Galileo ma Pietro disse o uomo non so quello che dici e in quell' istante mentre ancora parlava un gallo cantò allora il signore voltato si guardò Pietro e Pietro si ricordò delle parole che il signore gli aveva detto prima che il gallo canti oggi mi rinnegherai tre volte e uscito pianse amaramente rinnegherai ritorniamo di nuovo nella notte che avevamo lasciato alle spalle entrando nell'aula del primo processo subito da Gesù l'oscurità e il freddo sono squarciati dalle fiamme di un bracere collocato nel cortile del palazzo del sinedrio il personale di servizio e di custodia tende le mani verso quel tepore i visi sono illuminati ed ecco levarsi tre voci in successione tre mani puntarsi verso un volto riconosciuto quello di Pietro la prima è una voce femminile è una domestica del palazzo che fissa negli occhi il discepolo ed esclama eri anche tu con Gesù subentra poi una voce maschile sei dei loro e ancora un uomo arriva a dire più tardi la stessa accusa notando l'accento settentrionale di Pietro eri con lui a queste denunce quasi in un crescendo disperato di autodifesa l'apostolo non esita per tre volte a spergiurare non conosco Gesù non sono un suo discepolo non so quello che dite la luce di quel bracere penetra dunque ben oltre il volto di Pietro svela un'anima meschina la sua fragilità l'egoismo la paura eppure poche ore prima egli aveva proclamato anche se tutti si scandalizzeranno io no se anche dovessi morire con te non ti rinnegherò il sipario però non cala su questo tradimento come invece era caduto a Giuda c'è infatti in quella notte uno squillo che lacera il silenzio di Gerusalemme ma soprattutto la coscienza di Pietro è il canto di un gallo proprio in quel momento Gesù sta uscendo dall'assise giudiziaria che l'ha condannato Luca descrive l'incrocio degli sguardi tra Cristo e Pietro e lo fa usando un verbo greco che indica il fissare in profondità un viso ma come nota l'Evangelista non è un uomo qualsiasi che ora guarda l'altro è il Signore i cui occhi scrutano cuore e reni cioè il segreto intimo di un'anima e dagli occhi dell'Apostolo scendono le lacrime del pentimento nella sua vicenda si condensano tante storie di infedeltà e di conversione di debolezza e di liberazione ho pianto e ho creduto così con questi due soli verbi secoli dopo un convertito accosterà la sua esperienza a quella di Pietro dando voce anche a tutti noi che ogni giorno consumiamo piccoli tradimenti proteggendoci dietro giustificazioni meschine e lasciandoci possedere da paure vili ma come per l'Apostolo anche per noi è aperta la strada dell'incontro con lo sguardo di Cristo che ci affide lo stesso impegno anche tu una volta rabbeduto conferma i tuoi fratelli pater noster qui es in celis sanctificetur nomem tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis sodie et dimite nobis debita nostra sicutet nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentazione sed libera nos a malo quinta stazione jesù è giudicato da pilato jesù è giugé par pilate jesù is judged by pilate jesù è giudicato da pilato gerichtet jesù condenato por pilato jesù è giugato por pilato jesù osondzony pres pilato adoramus te christ et benedicimus tivi mi ader santan cruce tu an revisti mundu dal vangelo secondo luca pilato riuniti i sommi sacerdoti le autorità e il popolo disse mi avete portato questo uomo come sobbillatore del popolo ecco l'ho esaminato davanti a voi ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate e neanche erode infatti ce l'ha rimandato ecco egli non ha fatto nulla che meriti la morte perciò dopo averlo severamente castigato lo rilascerò ma essi si misero a gridare tutti insieme a morte costui dacci libero barabba questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio pilato parlò loro di nuovo volendo rilasciare gesù ma essi urlavano crocifiggilo crocifiggilo ed egli per la terza volta disse loro ma che male ha fatto costui non ho trovato nulla in lui che meriti la morte lo castiguerò severamente e poi lo rilascerò essi però insistevano a gran voce chiedendo che venisse crocifisso e le loro grida crescevano pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiedevano e abbandonò gesù alla loro volontà gesù è ora tra le insegne imperiali i vessilli le aquile e i labari dell'autorità romana all'interno di un altro palazzo del potere quello del governatore ponzio pilato un nome marginale e dimenticato nella storia dell'impero di roma eppure è un nome che risuona ogni domenica in tutto il mondo proprio a causa di quel processo che ora si sta celebrando i cristiani infatti nel credo proclamano che cristo fu crocefisso sotto ponzio pilato da un lato egli incarna prima vista la brutalità repressiva tant'è vero che luca rievoca in una pagina del suo vangelo quel giorno in cui non aveva esitato a mescolare nel tempio il sangue ebreo con quello degli animali sacrificali a lui si accosta anche un altro potere oscuro e impalpabile e la forza feroce delle masse manipolate dalle strategie dei poteri occulti che tramano nell'ombra il risultato è nella scelta di graziare un ribelle omicida barabba dall'altro lato però affiora un diverso profilo di pilato egli sembra rappresentare la tradizionale equità e imparzialità del diritto romano per ben tre volte infatti pilato tenta di proporre la soluzione di gesù per insufficienza di prove combinando al massimo la sanzione disciplinare della flagellazione l'accusa infatti non reggeva un serio vaglio processuale come ribadiscono tutti gli evangelisti pilato rivela quindi una certa apertura d'animo una disponibilità che però progressivamente si scolora e si spegne sotto la pressione dell'opinione pubblica pilato incarna allora un atteggiamento che sembra dominare nei nostri giorni quello dell'indifferenza del disinteresse della convenienza personale per quieto vivere per proprio vantaggio non si esita a calpestare verità e giustizia l'immoralità esplicita genera almeno un sussulto o una reazione questa è invece pura moralità che paralizza la coscienza estingue il rimorso e ottunde la mente l'indifferenza è la morte lenta della vera umanità l'esito è nella scelta finale di pilato come dicevano gli antichi latini una giustizia ipocrita e apatica diventa simile a una ragnatela nella quale incappano e muoiono i moscerini ma che gli uccelli squarciano con la forza del loro volo Gesù che è uno dei piccoli della terra senza poter emettere una parola è soffocato da questa rete e come spesso facciamo anche noi Pilato guarda dall'altra parte se ne lava le mani e come ali bilancia secondo l'evangelista Giovanni l'eterna domanda tipica di ogni scetticismo e di ogni relativismo etico che cos'è mai la verità pater noster qui es in celis sanctificetur nomem tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentazione sed libera nos a malo sesta stazione gesù è flagellato e coronato di spine viene dalla diocesi di talca nel cile sud america america latina il giovane che porterà la croce nella sesta e nella settima stazione jesù viet gegeiselt und mit dornen gecrünt jesù flagelado e coronado di espinas jesù è flagelado e coroato di espinius jesù biciovane e coronavane cerniem adoramus te criste et benedicimus tibi via versantan trocentuam redemis divundu dal vangelo secondo luca frattanto gli uomini che avevano in custodia gesù lo schernivano e lo percuotevano lo bendavano e gli dicevano indovina chi ti ha colpito e molti altri insulti dicevano contro di lui dal vangelo secondo giovanni i soldati intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora quindi gli venivano davanti e gli dicevano salve re dei giudei e gli davano schiaffi un giorno mentre camminava nella valle del giordano non lontano da gerico gesù gesù si era fermato e ai dodici aveva detto parole roventi e ai loro orecchi indecifrabili ecco noi andiamo a gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai pagani schernito oltraggiato coperto di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno ora quelle parole sciolgono il loro enigma nel cortile del pretorio la sede gerosolimitana del governatore romano inizia il lugubre rituale della tortura accompagnato all'esterno del palazzo dal rumoreggiare della folla che attende lo spettacolo del corteo dell'esecuzione capitale in quello spazio vietato al pubblico si consuma un gesto che sarà ripetuto nei secoli in mille forme sadiche e perverse nelle oscurità di tante celle gesù non è solo percosso ma è anche umiliato anzi l'evangelista Luca per definire quegli insulti usa il verbo bestemmiare svelando in modo allusivo il significato profondo di quello sfogo delle guardie che si accaniscono sulla vittima ma allo strazio della carne di Cristo si associa anche uno sfregio alla sua dignità personale attraverso una farsa macabra è l'evangelista Giovanni a rievocare quell'atto sarcastico ritmato su un gioco popolare quello del re da burla ecco infatti una corona ai cui raggi sono fatti di rametti spinosi ecco la porpora regale sostituita da un mantello rosso ecco il saluto imperiale dell'ave Cesare eppure in dissolvenza questa beffa si può intravedere un segno glorioso sì Gesù è umiliato come re da scherzo ma in realtà egli è il vero sovrano della storia quando alla fine si svelerà la sua regalità come ci ricorda un altro evangelista Matteo egli condannerà tutti i torturatori e gli oppressori e introdurrà nella gloria non solo le vittime ma anche tutti coloro che avranno visitato chi era in carcere curato i feriti e i sofferenti sostenuto gli affamati gli assetati i perseguitati ora però il volto trasfigurato apparso sul tabor è sfigurato colui che è l'irradiazione della gloria divina è oscurato e umiliato come aveva annunziato Isaia il servo messianico del Signore ha il dorso solcato dai flagelli la barba strappata dalle guance il viso rigato di sputi in Lui che è il Dio della gloria è presente anche la nostra umanità dolente in Lui che è il Signore della storia si rivela la vulnerabilità delle creature in Lui che è il Creatore del mondo si condensa il respiro di dolore di tutti gli esseri viventi Pater Noster qui es in Cielis sanctificetur nomem Tu adveniat Regnum Tu fiat Voluntas Tua sicut in Cielo et in Terra panem nostrum quotidiano da nobis odie ed dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentazione sed libera nos amalo Settima stazione Gesù è caricato della croce Gesù è chargé della croix Gesù is burdened miona miona adoramus te criste et benedicimus tibi via del sant' dal vangelo secondo marco dopo averlo schernito spogliarono Gesù della purpura e gli rimisero le sue vesti poi lo condussero fuori per crocifiggerlo nei cortili del palazzo imperiale è finita la festa macabra cadono le spoglie di quel ridicolo abbigliamento regale si spalanca il portale ecco avanzare Gesù coi suoi vestiti abituali con la sua tunica senza cuciture tessuta ad un pezzo da cima a fondo sulle sue spalle poggia la trave orizzontale destinata ad accogliere le sue braccia quando essa sarà stata fissata sul palo della crocifissione la sua è una presenza muta le sue orme sanguinano su quella strada che ancora oggi a gerusalemme reca il nome di via dolorosa ora inizio in senso stretto la via crucis quel percorso che anche stasera si ripete e che tende verso il colle delle esecuzioni capitali fuori le mura della città santa gesù avanza e vacilla sotto quel peso e per la debolezza del suo corpo ferito la tradizione ha voluto simbolicamente costellare quell'itinerario di tre cadute in esse si ha la vicenda infinita di tante donne e uomini prostrati nella miseria o nella fame sono bambini gracili vecchi sfiniti poveri debilitati dalle cui vene è stata succhiata ogni energia in quelle cadute c'è anche la storia di tutte le persone desolate nell'anima e infelici ignorate dalla frenesia e dalla distrazione di chi passa accanto in Cristo piegato sotto la croce c'è l'umanità malata e debole che come affermava il profeta Isaia prostrata parla da terra e dalla polvere salgono fioche le sue parole sembra di un fantasma la sua voce dalla terra e dalla polvere la sua parola risuona come un bisbiglio anche oggi come allora attorno a Gesù che si alza e avanza reggendo il legno della croce si svolge la vita quotidiana della strada segnata dagli affari dalle vetrine scintillanti dalla ricerca del piacere e eppure attorno a lui non c'è solo ostilità o indifferenza sui suoi passi si muovono oggi anche coloro che hanno scelto di seguirlo essi hanno ascoltato l'appello che un giorno egli aveva lanciato passando tra i campi della Galilea se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda ogni giorno la sua croce e mi segua usciamo allora anche noi dall'accampamento e andiamo verso di lui portando il suo obrobrio al termine della via dolorosa non c'è solo il colle della morte o il baratro del sepolcro ma anche il monte dell'ascensione gloriosa e della luce pater noster qui essi in celis sanctificetur nomem tu adveniat regnum tu fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum quotidianum da nobis sodie et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentazione sed libera nostra malo ottava stazione Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce è dalla diocesi di Incheon in Corea la giovane che porterà ora la croce per questa ottava stazione Simon von Cyrene hilft Jesus das croce tragen il Sireneo ayuda Jesus a llevar la cruz Jesus è ajudato pelo Cyreneo a carregar la cruz Cyrenei pomaga ne crzyg Jezus adoramos te Christ et benedicimus tibi qui a per santan crucem tua rede misti bu dal Vangelo secondo Luca mentre conducevano via Gesù presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù tornava dalla campagna forse dopo alcune ore di lavoro la tendevano a casa i preparativi del giorno festivo al tramonto infatti si sarebbe aperta la frontiera sacrale del sabato scandita dall'accendersi delle prime stelle in cielo Simone era il suo nome egli era un ebreo oriundo dell'Africa di Cirene città che si affaccia sul litorale libico e che ospitava una folta comunità della diaspora giudaica un ordine secco della pattuglia romana che scorta Gesù lo ferma e lo costringe a reggere per un tratto di strada il patibolo di quel condannato sfinito Simone era passato di là per caso non sapeva che quell'incontro sarebbe stato straordinario come è stato scritto quanti uomini nei secoli avrebbero voluto essere lì al suo posto essere passati di lì giusto in quel momento ma ormai era troppo tardi era lui che era passato ed egli nei secoli non avrebbe mai ceduto il suo posto ad altri è il mistero dell'incontro con dio che attraversa all'improvviso tante vite paolo l'apostolo era stato intercettato afferrato e conquistato da cristo sulla via di damasco e per questo che aveva poi ripreso da isaia quelle sorprendenti parole di dio io mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cercavano mi sono manifestato anche a quelli che non si rivolgevano a me dio è in agguato sui sentieri della nostra esistenza quotidiana è lui che talora bussa le nostre porte chiedendo un posto alle nostre mense per cenare con noi persino un imprevisto come quello che aveva incrociato la vita di Simone di Cirene può diventare un dono di conversione tant'è vero che l'evangelista Marco citerà i nomi dei figli di quell'uomo divenuti cristiani Alessandro e Rufo il Cireneo è così l'emblema del misterioso abbraccio tra la grazia divina e l'opera umana alla fine infatti l'evangelista lo rappresenta come il discepolo che porta la croce dietro a Gesù seguendone le orme il suo gesto da esecuzione forzata si trasforma idealmente in un simbolo di tutti gli atti di solidarietà per i sofferenti gli oppressi e gli affaticati il Cireneo rappresenta così l'immensa schiera delle persone generose dei missionari dei samaritani che non passano oltre dall'altra parte della strada ma si chinano sui miseri caricandoli su di sé per sostenerli che capo e sulle spalle di Simone curve sotto il peso della croce eccheggiano allora le parole di san paolo portate i pesi gli uni degli altri perché così addempirete la legge di Cristo. 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 Ecco infatti anche un gruppo di donne, forse appartenenti a una confraternita, dedita al conforto e al lamento rituale per i moribondi e i condannati a morte. Cristo, durante la legge di Cristo. La legge di Cristo. La legge di Cristo. La legge di Cristo. E se ci insegnano la legge di Cristo. La legge di Cristo. se si sente il bisogno di Cristo. e di Cristo. i vostri figli. la legge di Cristo. 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 salvi di Cristo. la legge 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 di Cristo. e muore. il cuore di Cristo. la legge di Cristo. e di Cristo. la legge di Cristo. e di Cristo. e di Cristo. la legge di Cristo. la legge di Cristo. e la legge di Cristo. la legge di Cristo. e di Cristo. la legge di Cristo. e di Cristo. la legge di Cristo. e 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 di Cristo. disse. e di Cristo. 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 di Cristo. e 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 di Cristo.